Tutti in pista all'Art Caffè di Roma per festeggiare il successo della trasmissione I Raccomandati. C'è la coppia canterina formata da Pupo ed Emanuele Filiberto, conduttori dello show. Poi la bionda con il viso d'eterna ragazza Giorgia Luzzi, il produttore del programma Daniele Di Lorenzo, la pupa ballerina Rosi Di Rettuso. Si brinda insieme a tanti ospiti, ecco Matteo Guerra con la finanzata Francesca, la compagna del naufrago Mastro Stefano Pamela Compagnucci e tronisti in carica Ramona Modeo e Marcello Fuentes. Ma anche Lorena Bianchetti, i GFini Federica Rosatelli e Fabrizio Cimmino, dedicata a Savoia e stato il maggiordomo. In ritardo come sempre Valeria Marini. Dopo la torta Champagne a volontà, un'edizione dagli ascolti record come quella di quest'anno va festeggiata a dovere.